Il maltempo concede una tregua, ma si contano i danni delle precipitazioni che hanno interessato la Regione. Il punto su disagi e interventi da mettere in campo, questa mattina in Prefettura a Potenza, nel corso della riunione del Centro Coordinamento Soccorsi. Una riunione di carattere operativo che ci serve soprattutto per capire se nei prossimi giorni dovessimo avere un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo, occorrerà appunto rafforzare e potenziare il sistema dei controlli. Perché ovviamente è necessario che sul sistema di controllo della rete viaria, delle strade, ci sia l'impegno e la compartecipazione di tutti gli attori che abbiamo pianificato nei mesi scorsi e che, come dire, in questi giorni è stata messa alla prova. Sul tavolo le criticità emerse dopo la pioggia e la neve. Noi abbiamo avuto una decina di segnalazioni da parte dei comuni della provincia di Potenza, rispetto ai quali andremo a predisporre i nostri sopralluoghi. L'area sud-occidentale della Regione si conferma la più colpita, compromesse la viabilità con l'interruzione di strade e arterie e le infrastrutture, con problemi nell'erogazione di alcuni servizi fondamentali, come quello idrico ed elettrico. Ma per forza dell'ordine e amministratori locali, che hanno partecipato all'incontro anche da remoto, resta alta l'allerta sul dissesto idrogeologico. Abbiamo avuto smottamenti in località Gallizzi, proprio all'interno del centro abitato. Per fortuna attualmente non toccano abitazioni e non abbiamo ritenuto opportuno procedere con ordinanze di sgombero. Però stiamo monitorando perché può esserci anche questa eventualità.